L'inanzamento globale potesse essere la causa di eventi climatici estremi come alluvioni, uragani, tifoni? Sì, perché penso che l'inanzamento dei gas serra nell'atmosfera possano avere delle conseguenze a livello di eventi climatici estremi. Assolutamente sì, è quello che di solito ci spiegano quando si verificano questi danni estremi. Purtroppo sì, credo che sia molto probabile. Bene, siamo arrivati alla fine di un altro episodio di Sostenibilità for Beginners. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima con un altro grande tema dedicato allo sviluppo sostenibile. Ciao da Giuseppe Paterno Raddusa e da Giacomo Marino Gallina e vi ricordo che Sostenibilità for Beginners va in onda anche su LiveGate Radio alle 7.30 in replica alle 19.30 dal lunedì al venerdì in un adattamento speciale. Alla prossima! Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli Ascoltabili.it curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paterno Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Un'esclusiva Gli Ascoltabili.it